Grazie, Presidente. Noi sentiamo parole, parole, le sentiamo da ore in quest'Aula e le abbiamo sentite per ore ieri in Commissione Ambiente e Territorio. Allora si dice che un'immagine valga più di cento parole. Allora che cos'è e che cosa è stato il decreto sisma per questo Governo? Bene, lo vedete in questa pagina di giornale, un grande spot elettorale, questo sì, Governo schierato per Bianconi, un provvedimento è stato detto, approvato il 21 di ottobre per andare a sostenere un tappabuchi qualunque trovato per candidarsi in una regione di fatto persa e approvato dopo un impegno ben preciso che il Premier Conte si era andato a prendere nelle zone terremotate. Non è una passerella, aveva detto il Premier Conte, non è una passerella. Difatti era una presa in giro, era una presa in giro quel decreto che era uscito dal Consiglio dei Ministri. Nove articoletti, quattro pagine. Questo è il decreto sisma che aveva annunciato il Conte Bis a una comunità in ginocchio, perché ancora così è la comunità, le comunità sono dell'area del terremoto. Aveva detto che non ci saranno altre proroghe. Ebbene, forse la cosa più consistente che c'era e che c'è in questo provvedimento, nonostante i miglioramenti apportati al testo iniziale, sono proprio delle proroghe. Ebbene, questo provvedimento, questo spot elettorale, il Premier Conte è andato a presentarlo a Narni, in Umbria. Narni sta a 115 chilometri da Castelluccio di Norcia. È stato detto che questo governo è distante dalla realtà. Non lo è soltanto idealmente, lo è stato fisicamente, perché sono andati a presentare questo decreto a Narni, perché se fossero andati a Norcia, nella migliore delle ipotesi, si sarebbero presi qualche ortaggio sulla faccia, per non dire altro, magari anche qualche maceria, visto tutte quelle che ci sono. E allora, di fronte a tutto questo, mi rivolgo al collega Verducci, anche perché gli devo delle scuse, abbiamo avuto un diverbio in Commissione, però su una cosa gli chiedo di darmi atto. Lui diceva che il 2018 è stato un po' uno spot elettorale. Bene, questo decreto sisma, bisogna avere la correttezza di dire che nel testo iniziale era uno spot uguale e superiore. Diversamente non sarebbe passato da nove articoli usciti dal Consiglio dei Ministri a 50 articoli alla Camera. Se si arriva a inserire 50 articoli, vuol dire che il testo iniziale sicuramente non risponde a tutto quello che avrebbe dovuto rispondere. E quella astensione, astensione critica e responsabile che c'è stata alla Camera da parte della Lega è proprio dovuta a questo. Lo diceva nell'intervento d'apertura il collega Pazzaglini. Anche se ci fosse stato un unico provvedimento, un unico articolo, un unico emendamento, a vantaggio sarebbe stato giusto contribuire e quantomeno non opporsi perché va a vantaggio di una comunità, lo dicevo prima, che è in ginocchio ancora prostrata, non solo per le condizioni, ma anche per la distanza che le istituzioni nel loro complesso o l'incapacità che le istituzioni nel loro complesso hanno dimostrato, al di là dei passi avanti del cambio delle parti fra maggioranza e opposizione che c'è stato in questi anni. E allora, di fronte a tutto questo, anche qui al Senato, la volontà del gruppo della Lega, lo ha descritto bene nel suo intervento il collega Arrigoni, era quello di migliorare, di contribuire a migliorare. Qui abbiamo un pacchetto di decine e decine di emendamenti che già sappiamo che non discuteremo e non discuteremo, badate bene, con una motivazione che non è quella di non condividerne i contenuti. Alcuni di questi emendamenti sono simili e provengono da tutti i gruppi parlamentari, a riprova che se ci si vuole porre in maniera obiettiva ed onesta di fronte a un problema, quello è e quelle sono le soluzioni. Ci è stato detto che non c'è tempo e abbiamo avuto questa risposta nelle stesse ore in cui, di giorno in giorno, una Commissione bilancio che da 37 giorni aspetta di avere un testo definitivo e completo veniva rinviata, rinviata, rinviata. Tutti sappiamo che una finestra alla Camera per una terza lettura, alla luce dello Stato dell'avanzamento della legge di bilancio ci sarebbe stata. Bastava un passaggio tecnico raccogliendo le migliorie proposte non solo e soltanto dal gruppo della Lega, ma da tutti i gruppi, nel dettaglio sono andati i colleghi, ma soprattutto chieste dalle amministrazioni comunali, dai professionisti, dalle regioni. Qui noi abbiamo decine di emendamenti fatti e scritti e proposti nel merito, da amministrazioni comunali, da sindaci che sono degli eroi che in questi anni hanno cercato di dare risposta alle loro comunità, comunità qualche volta addirittura disperse fisicamente. Io ho già avuto occasione di dirlo, abito al Trasimeno, noi abbiamo avuto centinaia di cittadini trasformati di loro malgrado i sfollati che avrebbero dovuto stare qualche giorno nei nostri territori che abbiamo dovuto accogliere con le famiglie a decine e decine di chilometri, così come è toccato a alcune località della costa adriatica a dover accogliere dei cittadini. Ebbene, quei sindaci, qualche volta facendo peregrinazioni per alberghi e residence, hanno cercato di tenere insieme una comunità e oggi ci chiedono, sulla base della loro esperienza, risposte migliorative rispetto al testo uscito dalla Camera, dicendo che non basta, non risponde a tutto questo e noi gli diciamo no. Ma gli diciamo no, mentre nelle stesse parole anche del collega si prende atto che altre cose dovranno essere aggiunte. Ma allora, se noi sentiamo in quest'Aula dire che già a gennaio dobbiamo ripartire con un nuovo decreto, ma non valeva la pena di dare quelle stesse risposte oggi? Ebbene, ne valeva tanto la pena letteralmente che a dirlo non siamo solo noi, ma sono le regioni. E qui, permettetemi almeno in questo una nota polemica, allora, quattro regioni, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, sono riuscita a mettersi d'accordo, regioni di diverso colore politico, con diversi problemi, ci hanno lasciato un documento unitario, è venuta la regione Marche, che sicuramente non è composta e sostenuta da pericolosi leghisti, a dirci chiaramente se non verranno corretti gli errori, per carità, in buona fede, contenuti nel decreto, noi rischiamo la paralisi della ricostruzione. Allora, se il responsabile di una regione viene a dirci questo, in nome per conto del suo presidente, che è del PD e non è della Lega, beh, io penso che un supplemento di analisi e una possibile risposta andava trovata, perché i tempi, lo ribadisco, c'erano. E allora, fra poco voi chiederete una fiducia a Conte, che di fatto è anche una sfiducia al presidente della regione Lazio, tale Zingaretti, perché voi avete il presidente della regione Lazio che chiede determinate cose che non vengono concesse, ma del resto ci è abituato a essere sconfessato anche dal suo partito il segretario presidente Zingaretti. E allora, di fronte a tutto questo, noi non sappiamo chi debba essere più sereno fra Conte, Zingaretti, Di Maio. Quello che sappiamo è che non possono stare sereni i cittadini fin tanto che ci sarà questo governo e non ci rassegneremo, non saremo sereni noi finché finalmente non si potrà tornare a dare risposte, soluzioni concrete a un territorio che da troppo tempo le attende. La Lega, insieme ai colleghi del Cinque Stelle, ma anche qui sembrano essersi persi per strada, come lo saranno forse persi per strada sulla strada dell'Europa, oggi pomeriggio sul MES, noi siamo rimasti su quella strada che porta soluzioni concrete e che sapremo dare a una comunità che da troppo tempo le aspetta. Grazie.